Musica Bella a tutti ragazzi qui è Giovedere Santa e ben ritrovati nel mio canale Oggi signori siamo qui finalmente tornati con una serie storica Perché oggi siamo qui per giocare tutto quanto l'europeo con la nostra nazionale Prima di iniziare io vi chiedo un bel mi piace a questo video Dobbiamo arrivare a quota 10.000 Successivamente nei prossimi giorni usciranno altri video in cui giocheremo tutto l'europeo con altre nazioni Fatemi sapere anche qui sotto nei commenti quale volete che sia la prossima nazionale con cui appunto andremo a giocare tutta la competizione Prima di iniziare una cosa importante il girone lo sapete a memoria però è giusto rimembrarlo Abbiamo la Turchia, il Galles e la Svizzera abbiamo l'obbligo di passare questo girone Per quanto riguarda invece la formazione c'è qualche dubbio ho provato a imbastire questa formazione Partiamo con una sorta di 4-3-3 offensivo se vogliamo appunto rimembrare i termini di FIFA Con Pellegrini trequartista Non ho messo ragazzi Zagnolo perché Zagnolo non è stato convocato su questo gioco c'è ancora Però non vorrei utilizzarlo anche se è più forte di Pellegrini Insigno a sinistra, Chiesa a destra, Immobile punta, Giorginio Verratti con Giorginio in mediana Finazzona, Chiellini, Bonucci, Florenzi e Donaluma in porta Ci sono tantissime altre soluzioni c'è Barella che purtroppo è in panchina Vediamo ragazzi come mettono in campo Però per come gioco io, ovvero in un modo indefinito perché non ho mai giocato a pezzo Comunque ci ho fatto due partite quest'anno Da quel che ricordo è fondamentale la spinta degli esterni e la presenza del trequartista Quindi per mettere Pellegrini per forza a Barella deve andare fuori Partiamo così Ragazzi sono delle prove Sono delle prove È la prima volta che gioco con questa nazionale È la prima volta che provo l'europeo Qualcuno non potrà essere d'accordo con le mie scelte ma ci sta Si spera di fare tante partite e giocando capiremo cosa non andrà Non ci resta che iniziare La difficoltà è abbastanza alta Però voglio rischiare Sfighiamo comunque i turchi E la Turchia non è una squadra sulla carta più forte di noi Anzi sono più deboli Occhio a Burakilmaz Ma sono molto fiducioso Andiamo a giocare ragazzi Non ho paura di niente Non ho paura di nessuno Siamo l'Italia e siamo coloro che vinceranno questo europeo Cheat Andiamo in campo per la prima partita di questo europeo Pia Tutto pronto signori Tutto pronto Mano sul petto Sta dormendo Chiellini Apri gli occhi Giorgione Apri gli occhi Mano sul petto Si canta l'inno d'Italia Ovviamente la fascia l'ho data a Lorenzini insegna ragazzi Perché lui è l'orgoglio di Napoli È l'orgoglio della mia Napoli E la fascia di Capitano se la merita lui Andiamo a giocare signori Andiamo a giocare Schippiamo tutto Si torna su PES dopo 8 anni Turchia Italia Pia Giorginio Diventa buona per Pellegrini Tocco interessante per Berratti Sovrapposizione Sovrapposizione del terzino Bravissimo Florentino Colpo di tacco Non è vero Va bene lo stesso Chiesa Ok Indietro ragazzi Non riesco a fare un'azione manovrata Berratti Dentro per Giorginio Che appoggia di prima Per Insigne Insigne Destro giro Destro giro di Insigne Madonna mia Quello proprio li doveva stare Quel pischelletto Cavolo però Prima azione offensiva Gli avevo liberato Insigne con il tira giro Florentino Dentro per Immobile Immobile Si gira Immobile Tacco Per Florentino Destro Non è Florentino Non so chi era Pellegrini Ancora parata Zero di recupero Non fischere Non fischere Non fischere Non fischere Non fischere Non fischere Per Berratti Che appoggia dentro Per Che questo qua Che questo qua Pellegrini Destro giro di Pellegrini Pallone ancora centrale Più o meno Ragazzi ancora Zero a zero Fine primo tempo Con zero di recupero L'abito L'ho lasciato correre Fino al 49esimo Bravo Bonucci Diventa buona per Immobile Di prima per Chiesa Inserisci Inserisci Immobile Destro No No Ciruzzo No C'è solo una cosa da fare Ragazzi Ci serve qualcuno Che sia in grado Di tentare la giocata Avete già capito ragazzi Di chi sto parlando Ci serve qualcuno Che non ha paura Di rischiare Qualcuno che quando Entri in campo Riesce a provare la giocata Che gli altri non possono Dentro Bernardeschi Eccolo ragazzi Eccolo qui Eccolo qui Eccolo qui Eccolo qui Eccolo qui In grado di tentare la giocata E di sbloccare questa partita Bernardeschi Giorginio 63esimo Immobile Di prima No Era per Bernardeschi Ma perché non l'ha fatta Si era mossa Si era mosso bene Bernardeschi Aveva tentata la giocata Veramente Guardali ragazzi Che cavolo stiamo combinando I destra Bernardeschi Che tenta la giocata E ci riesce 67esimo Guarda Insigne Guarda Insigne Ma perché ragazzi Ma che problemi ha Questi giocatori Ma che problemi hanno Questi giocatori Perché non riescono A fare un passaggio decente Oh attenzione qua Di prima Per Borucci Perché c'è Borucci lì Chiellini In segno di prima Ripobile Fallo Cerù 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 Inanna 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 Non ce la stiamo giocando ragazzi Uno schifo stiamo giocando Non riesco a costruire delle azioni su questo gioco Tutti zero che mancano 10 minuti 2 di recupero No eh Non adesso ragazzi Non adesso Bravissimo Bonucci che recupera la palla Poi la perde Poi la recupera Non sta capendo più niente Occhio Estro sei codo Naruma In due tempi La blocca La blocca Zizzo Un milione in più di contratto per Zizzo 1-0 Finisce qui Buona la prima Gol di Bonucci Questo è il riepilogo della classifica 3-3-0-0 Molto bene La prima è andata Puntiamo alla seconda Perché ora tocca alla Svizzera La squadra ragazzi Mi è piaciuta Anche se Madonna Questi qui ragazzi Tutti dietro Quelli lì E con quelli là ragazzi Embolo e Seferovic Stanno fuori dal campo Stanno Madonna come si presentano Sti qua I svizzeresi Guarda lì Porca miseria Oh sti qua Mamma mia Comunque signori Diciamo che la squadra Più o meno mi è piaciuta Però se posso essere sincero Bernardeschi Mi è piaciuto di più di Pellegrini Quindi io ci butto Bernardeschi C o C E vediamo come va Andiamo a giocare signori Seconda partita Della fase a Gironi Che Dio ce la mandi Buona Tutto pronto signori Ci siamo Italia Svizzera Via Chi sa Diventa buona per Bernardeschi Eccolo qui Eccolo qui Bernardeschi si gira Bernardeschi 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 si usa Bernardeschi Mamma mia La giocata La giocata del fenomeno La giocata La tentata La tentata La giocata La tentata A Torino Non gliela fanno fare la giocata Non gliela fanno fare Qui invece gliela fanno fare la giocata E lui la mette dentro La mossa ragazzi La mossa La mossa Bernardeschi La tenta la fa La tenta la fa 1-0 Bernardeschi Insigne È velocissimo Insigne Se hai visto poco ragazzi Insigne Se hai visto poco Insigne 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 A poche per l'immobile Immobile Si gira E doveva Bernardeschi Che riceve la palla Bernardeschi Sinistra giro Pallone fuori Mamma mia ragazzi Non si ferma Bernardeschi Non si ferma Chi sa Divina per l'immobile Tunnel Immobile In crucia A spaccato i segne I segne No Il tira giro dove fa E tira giro E ha spaccato la porta Immobile Non riusciamo a chiudere la partita Chiesa Diventa buona per Verratti Tocco per immobile Che deve guardare Bernardeschi 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 Un mezzo a tre Bernardeschi Tunnel Oh mio dio ragazzi Oh mio dio Questo è un giocatore superiore Spina sola Cross Per il Colpo di testa Di immobile Che non ci arriva Ma che Italia Giorginio Attenzione qui Avanziamo Giorginio Appoggia per Bernardeschi Non va Bernardeschi Bernardeschi È la sua mattonella Oddio E poi l'animazione Quella lì Che c'è sempre È tutta una finta È tutto calcolato Oh calcio di rigore Madonna Veno male Veno male Veno male Veno male Bonucci Benucci all'offensiva Verratti Fini in fondo Ragazzi Fini in fondo Appoggia per immobile Che riceve palla Immobile tua Immobile 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 Il crociapallone parato Incredibile È il secondo Che si mangia immobile Il primo è stato sfortunato Ha preso la traversa Qui ragazzi Ha cacciato addosso al portiere Non si fa Non si fa Guarda che c'è il galletto C'è il galletto Belotti Verratti Occhio Si gira Destro Niente Attaccano loro Uh Ma buttalo giù Che lì Non è fallo Che lì Che lì Senza fa No No L'ha dato No 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 Ragazzi No No Che lì Mi dice Giallo Veno male Questo è il nostro diretto No ragazzi Non ci credo Ma ha dato quello fuori Ha dato quello fuori Ha dato L'ho distrutto Ha dato quello fuori Punizione ragazzi Punizione Occhio perché questi forse Li sanno battere Aspetta che metto l'uomo Qua sulla linea Aspetta Oh bravissimo Bernardeschi in barriera E poi Immobile che recupera E poi Bravissimo Immobile Per il Florenzino Deve andare Flore Deve andare Anche se forse è meglio gestire Giorginio Occhio Diventa buona per Insigne Se hai visto poco Lorenzo a destra Eh ragazzi Hai visto veramente poco Lo stiamo sfruttando poco 87 Se vinciamo questi Siamo qualificati Calma 89 Occhio Zero di recupero Dentro per Il sinistro Donna Rumma Incredibile Zizzo Incredibile E poi spazza via Bonucci Incredibile ragazzi Abbiamo vinto Abbiamo vinto L'Evrope Ma no Abbiamo passato il girone Eh sì 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 La decide ragazzi Bernardeschi dopo 5 minuti Abbiamo rischiato Io vi invito a rivedere l'azione Che lì ha fatto 8 palli Che lì Però Però va bene così ragazzi Non importa L'importante è aver passato Il girone L'ultima partita signore Contro il Galles Ma questa qui È la classifica Noi come avete visto prima Abbiamo già superato Il girone Purtroppo però Su questo gioco Non si può simulare Quindi siamo costretti A giocare anche Contro il Galles Però Visto che è una partita Inutile Ho diminuito La durata della partita Così subito finisce Inoltre Ne approfitto ragazzi Per provare Il Gallo Belotti Al posto di Immobile Metto anche Barella In mezzo al campo Al posto di Berratti Quindi vediamo Come se la capano Tanto questi giocatori Non si stancano Quindi non siamo costretti A fare turnover Andiamo a sfidare il Galles Vi faccio vedere Soltanto i gol Giorginio Diventa buona per il Gallo Il Gallo Il Gallo Il Gallo Incrocia il Galletto Il Gallo Belotti ragazzi Il Gallo Belotti Il Gallo Belotti Il Gallo Belotti Eccoli Grande Gallo Grande Sfrutta l'occasione ragazzi Sfrutta la possibilità E la mette a segno Spinazzola Belotti Doppietta Doppietta del Gallo ragazzi Doppietta del Gallo Belotti Che poi mi è preso A pacchio da Spinazzola Vamos Non c'è più tempo signori Due gol E due azioni Che avete visto Palla prigioniera Forse pertanto Possesso palla Perché ho gestito la gara Battiamo il Galles ragazzi E quest'Italia Supera il girone A punteggio pieno Girone passato E adesso Abbiamo il primo turno Ad eliminazione diretta Abbiamo beccato L'Austria Però voglio guardare Il tabellone completo Danimarca Polonia Italia Austria Portogallo Svizzera Repubblica cieca Svezia Di là Spagna Belgio Inghilterra Germania Olanda Francia Turchia Russia Ragazzi Tutte le forti Stanno praticamente a destra La Spagna L'Inghilterra La Germania L'Olanda La Francia Sì ok A sinistra c'è il Portogallo C'è la Polonia Ma a destra ragazzi Sono tutte le big Tutte le big Possiamo arrivare in fondo Ma sapete che vi dico A me il Gallo Belotti Mi ha convinto De ritorna Verratti Ma il Gallo Belotti Io lo metto in campo Ha fatto doppietta È vero che abbiamo Spirato il Galles Però comunque Non è da dimenticare Bisogna prendere in considerazione Quella doppietta Quindi lo lancio in campo Con i mobili in panchina Andiamo ragazzi a giocare Contro L'Austria Tutto pronto signori Ci siamo Squadre Il campo Adesso inizia Davvero l'Europeo Signori Adesso davvero Inizia l'Europeo Inizia la fase importante La fase a giro Io non dico che era scontata Però comunque Era una cosa Che l'Italia doveva Per forza passare E noi l'abbiamo fatto Oggi c'è L'Austria Concentrati Perché questi qui Vanno battuti Via Giorginio Recupera palla E se ne va Giorginio Appoggia molto bene Per Beradeschi Che allarga Dall'attrato di esterno Sinistro Madonna che talento Ragazzi Che talento cristallino Chi è sa Diventa buona per il Florenzino Che deve spingere Appoggia dentro per Beradeschi Che non ce la fa Oddio recupera palla Beradeschi ragazzi Beradeschi è l'uomo in più Chiesa Appoggia per il mobile Non è vero E Belotti Stop Destro Centrale Privazione Beradeschi Diventa buona per Chiesa Ci sarebbe Ci sarebbe il galletto Ci sarebbe il galletto Cross Galletto Di testa non ci arriva Mamma mia raga Ventinovesimo E sta avendo un po' di paura Sta avendo un po' di paura Perché non riusciamo a sbloccare questa gara Beradeschi Giorginio Ancora noi Tocco per Insigne Si è visto pochissimo ragazzi Insigne Si è visto pochissimo Berratti Appoggia dentro Di prima per Insigne Insigne Destro a giro Pallone fuori È giusta quel destro a giro Attenzione qui Donnarumma Miracolo Miracolo ragazzi Miracolo di Donnarumma Allora Sto avendo qualche problema Raga Sto avendo qualche problema Contro questi astrungarici Insigne Attenzione qua Se ne va Se ne va C'è Berna C'è Beradeschi C'è Beradeschi Beradeschi Tentala Tentala L'ha tentata L'ha tentata La giocata È sempre lui È sempre lui Ragazzi Il Berna È sempre lui Ragazzi È sempre lui È sempre lui Non è una coincidenza Ragazzi Non è una coincidenza Che nelle partite importanti I top player Escono fuori 1-0 Passiamo il turno Forse Non lo so Ma se lo passiamo Sarà a merito Di questo fenomeno qui Insigne Occhio Appoggia per Spinazzola Che potrebbe provare Il destro Il giro Ripanduta No Cosa ha sbagliato Belotti Madonna Belotti Ti ho messo in capo Perché avevi fatto bene Contro il Galles Un tiro deviato Lì era da mettere dentro Gallo Guardate là Da solo ragazzi Era da solo Era difficile Ma da solo L'ha sbagliata Potevi chiudere il match Gallo Bernardeschi Buonissima per Verratti Alta 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 Belotti Stop Tiro Fatti perdonare No 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 Galletto Galletto no No Gallo Fuori 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 Galletto siamo in nazionale Qua eh Non siamo Non siamo a toro Non siamo a toro Che la butti fuori Il templatone lo stesso Qua siamo in nazionale Immobile Oh no 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 Chiudi 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 No No Chiudi Chiudi Bravissimo Florenzino Che poi rischia Rischia anche la nonna Ragazzi Rischia anche la nonna Benandeschi di prima per Immobile Che giocatore straordinario Io l'ho appena entrato Cerù 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 Sono fuori Ragazzi non abbiamo la punta Non abbiamo la punta ragazzi Non abbiamo la punta Sapete cosa faccio quasi quasi Immobile falso 9 Adesso me la invento così Perché non c'è veramente ragazzi Tre occasioni Buttate Spina sola Diventa buona per insegna Che protegge fallo Insigne grande Stupo Brutto Bruttissimo fallo Ragazzi Bruttissimo fallo Ottantottesimo La stiamo gestendo alla grande ragazzi Ottima Italia Ottima Italia Peccato solo che non riusciamo a concretizzare Perché stiamo costando tanto Spina sola Prova la bomba da 80 metri Madonna che è schifo Berardischi Insigne 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 Il testo giro Oh come gira Oh come gira Oh come gira Oh come gira Fa la risultanza però Insigne Non è questa La risultanza di Insigne Insigne fa il cuore 2 a 0 signori Ha girato Il tiro di Insigne Ha girato E quando gira È imprendibile Non c'è più tempo signori L'arbitro potrebbe fischiare E infatti è così L'Italia passa il turno La decide Un gol di Berardischi Al 54esimo E un gol Dello schunizzo Lorenzini Insigne A tempo scaduto Che chiude tutto Insigne Senza la maglietta Saluta I suoi tifosi E l'Italia Per adesso L'uomo dell'europeo È questo qua ragazzi È per Berardischi Occhio Stiamo attenti signori Alla Danimarca Perché hanno il grandissimo Eriksen Quindi attenti Perché il talento Ce l'hanno Andiamo a giocare Andiamo a giocare Signori Contro la Danimarca Per andare in semifinale Via Contro pronto signori Ci siamo Cuore azzurro Sogno azzurro Ci siamo Mano sul tetto E noi non molliamo Squadre in campo L'inno italiano L'abbiamo cantato Squarciagola Inizia adesso Da Marca Italia Contropiede Attenzione qua Attenzione qua Attenzione qua Che lì Lo butto giù Tanto ragazzi Non dà il rosso Da sempre giallo Non dà rosso È da sempre giallo Da sempre giallo Da Da sempre giallo Rosso No 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 Ma dava sempre giallo Dava Dio mio ragazzi Dava giallo Madonna mia Il chiello è spulso Porca misera Mettiamo l'uomo sulla linea Mettiamo solo Sulla linea Incredibile Incredibile Eriksen di punizione Incredibile Disastro Italia In 17 minuti Buttiamo l'europeo Insigne 24esimo C'è spazio C'è spazio C'è il Berna C'è il Berna Non così Di prima Di tacco Immobile Immobile Alla catarata Tutto per Insigne Insigne Infondo Insigne 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 Stai facendo cagare Insigne Stai facendo cagare In questo europeo Porca misera Stai facendo cagare Bernardeschi 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 Filtrante Per Bonucci Che con il destro La butta fuori clamorosamente La butta fuori clamorosamente Leonardo Bonucci Contropiede Occhio No 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 Madonna mia Che rischio Che rischio Ragazzi Che rischio Che sei bagnato Dentro il gallo belotti Dentro il gallo belotti No Occhio Eci Eci Mamma mia Stiamo rischiando la vita Stiamo rischiando la vita Ragazzi Stiamo rischiando la vita la morte la sorella spinazzola ma che combini ma che combini spinazzola scivolata ma anche edibile lo so pure qua dai ragazzi dai dai giallo giallo per verratti madonna che partita ragazzi ho saltato degli schemi dai occhio a sto pesce che ce n'ha fatta una occhio attenzione sulla barriera occhio calma 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 resta lì resta lì resta lì resta lì resta lì easy un paio di cambi signori un paio di cambi un paio di cambi ho messo a cervi perché mi serve un difensore centrale c'è c'è berardi al posto di florenzi e vediamo un po' ha tolto il giorginio per far spazio a un difensore centrale a cervi che resta dietro a cervi ecco chi sta dietro verrà che sta dietro perché non sta cervi dietro oddio spinazzola con calma appoggia per insigne nooo cinquantesimo contropiede attenzione 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 donnarumma esce 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 bravo belotti c'è spazio di prima da sbagliare oh a cervi a cervi a cervi a cervone a cervone nazionale a cervone a cervone a cervone nazionale uno a uno a cervi berardi terzino destro signori è l'unica chance berardi terzino destro proviamo a fare una sorta di non lo so di quattro di tre quattro due proviamo a giocare così una sorta di tre quattro due con doppia punta immobile belotti scendono in signe e scende chiesa berardi terzino destro beratti attenzione qua di prima per immobile dimmi che è regolare dimmi che è regolare dov'è il gallo dov'è il gallo dov'è il gallo non ci interessa dov'è tocco sotto d'immobile tocco sotto di ciruzzo ciruzzo immobile ciruzzo immobile ciruzzo immobile ciruzzo immobile col tocco sotto col tocco sotto ciruzzo immobile Che partita ragazzi Che partita mamma mia Con il cuore ragazzi Il cuore, il cuore di questa nazionale Tutti giù, tutti giù, tutti giù Bernardeschi sono sbilanciati Ragazzi sono sbilanciati brutto Fallo su Bernardeschi solo così Solo così si fermano i top player Insigni, insigni dove sei? Allora, 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 fatti vedere Fallo questo, sì, sì, sì Hanno perso la testa ragazzi Hanno perso la testa No, 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 no Bernardi, Bernardi, tessino, Bernardi, tessino Ok, calma, 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 calma No, 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 no Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego Non adesso, non adesso Ti supplico, ti supplico Dentro basta Zizzo, zizzo poi va Adesso la schiena Calciato in gol Questo era il rigore netto Questo era il rigore netto ragazzi Questo era il rigore netto Guarda, l'ho facciato Questo era il rigore netto Guardate lì Questo era il rigore netto Madonna mia ragazzi Calcio d'angolo Che partita, non ci posso credere Attenzione, quanti testa colpisce fuori Fuori, 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 fuori Testa? No, 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 no E c'è Zizzo Rete 2 a 2 2 a 2, no No, perché non l'ha presa il mio centrale? Perché non l'ha presa il mio centrale? Perché? Non so chi ha fatto l'errore Mi sembra Acerbi Mi sembra ragazzi Su questa palla lunga qui Chi è quello lì ragazzi? Non so chi sia quel pesce Porca di quella vacca signori 4 di recupero 4 di recupero Chiesa Close dentro Rovesciata È nostra eh Non tazzardare a dar calcio d'angolo Tanto calcio d'angolo Calcio d'angolo signori Non abbiamo le torri C'è pure il portiere in mezzo Ma come il portiere in mezzo? Se riesco a recuperarla Cross Oddio Oddio verso il portiere Oddio Cross ancora Di testa Fuori Madonna Ma che si può Sono pazzi Il portiere in mezzo Ma che succede ragazzi In sta partita La prendiamo una volta di testa Per carità Una Una La prendiamo una Niente ragazzi Vanno sempre all'ora il pallone E l'abito non fischia Oh grazie a Gesù Cristo Tempi supplementari Madonna che è partita Anticipa Bravo Cerbi È partita Belotti Bernardeschi Se ne va Se ne va il Berna Se ne va il Berna Se ne va il Berna Dentro per Belotti Che deve proteggere il palla Stai facendo cagare Belotti Non è toccato un pallone Cristo santo Non è toccato un pallone giusto Uno Belotti Allarca di là Allarca di là Ceruzzo 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 No No Ceruzzo Guarda la faccia rapida di Ceruzzo Berardi Di prima Per Berratti Calma 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 Chiesa Appoggia per Bernardeschi Berardeschi Di prima Non così Non così Berna Non così Non così Contropiede L'abbiamo preso in quel posto L'abbiamo preso in quel posto Ferma tutto Berratti Chiesa C'è un 19 Belotti 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 Fai cagare Belotti Fai cagare Calci di rigore Che non sto tirato Su sto gioco Calci di rigore Signori Bernardeschi 80 Bonù Berardi Anche il rigorista Cavolo Bonucci L'ho tolto Bonucci pure il rigorista Bonucci Mettiamoli in ordine Signori Mettiamoli in ordine Dai Questi qua A parte scobbe E poi fanno un po' Cagare Che ansia Ragazzi Zizzo Ragazzi Zizzo Zizzo Sende a me Zizzo Sende a me Ogni rigore parato È un milione in più Primo rigore Polsen Contro Zizzo Che Spiazza Palo 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 Immobiluccio Prende la mira E poi Lo spiazza Mamma mia Immobiluccio Madonna Che rigore Immobiluccio Che rigore Questo li sa battere ragazzi Questo li sa battere Attenzione Vado a sinistra Centrale Madonna mia Questo era uno dei migliori Centrale L'ha tirato E l'è fatta sotto Il Gallo Belotti Andiamo di nuovo a destra Forse ho caricato troppo Attenzione qui Il Galletto Belotti Lo spiazza questa volta Questa volta lo spiazza Questa volta lo spiazza Il Gallo Belotti Attenzione Vado a Sinistra Uuuuh Zinzo Un milione in più per Zinzo Un milione in più per Zinzo Un milione in più per Zinzo Lorenzino A sinistra Occhio Lorenzino Prende la mira Uuuuh Freddezza Freddezza Una lepre Eriksen Contro Donnarumma Destra E centrale Vado a tutti i centrali Sti qua li stanno battendo Bernardeschi 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 Non so cosa ha fatto Bernardeschi Uuuuh Centrale Centrale Non ha fatto il cucchiaio Non ha fatto il cucchiaio L'ho premuto Non l'ha fatto Ma Bernardeschi E' l'uomo decisivo ragazzi E' l'uomo decisivo E' l'uomo decisivo Che porta l'Italia In semifinale Bernardeschi Mamma mia Prima umilia il portiere Facendo il gesto E poi tira centrale Non gli è venuto Perché l'ha colpita male Non è capace di fare Il pallonetto lui Ma non importa Conte il pensiero Conte il gesto Guardiamo il tabellone Perché abbiamo La Svizzera Ragazzi Italia Svizzera E di là Spagna Francia Mamma mia Italia Svizzera Spagna Francia E' tosta ragazzi E' tosta E' veramente tosta Ma Non posso utilizzare Chiellini E no L'hanno messo Bastoni L'hanno messo Col cavolo che gioco Con Bastoni Muttiamo la Cervi Che ha fatto una bella partita Ragazzi Per il resto Formazione confermata Questa volta Stiamo attenti Ai cartini rossi Perché stiamo attenti Ai falli Perché tutto è nato Grazie Anzi per colpa Delle espulsioni di Chiellini Perché se non avessimo Perso Chiellini Secondo me Quella partita L'avremmo vinta Non so Cioè Non facilmente Ma l'avremmo vinta In modo comunque Onesto Qui ragazzi Veramente abbiamo perso 8 vite La Svizzera 5-3-2 Tutti dietro Con doppio mediano Doppia punta E poi 3 difensori centrali Vediamo quello che riusciamo a fare Ragazzi Vediamo quello che riusciamo a fare Italia Svizzera Andiamo Tutto pronto signori Ci siamo Qui ci vuole pazienza Per battere questa Svizzera Ci vuole pazienza E se sono arrivati fin qui Ci sarà un motivo Anche noi però siamo arrivati qui Quindi anche noi siamo forti Italia Svizzera Via Bernardeschi Di prima per immobile Immobile Stop Tiro Centrale Oddio Immobile Non è vero Immobile Spinta Immobiluccio Ok Immobiluccio Immobiluccio Appoggia per Bernardeschi Che tenta la giocata E la tenta sì E la tenta sì La giocata ragazzi Madonna Quante giocate Che sta tentando Questo giocatore Io non ho mai visto Nessun giocatore Tentare così tante volte La giocata Incredibile ragazzi Incredibile 1 a 0 dopo 6 minuti Ha segnato ancora a Bernardeschi Che è l'uomo di questo europeo Ragazzi Bernardeschi Che è l'uomo di questo europeo Verratti Alla gata dall'altro lato Bene per Florenzi Che se ne va Bello di nonna Bello di nonna Bello di nonna Bello di nonna 2 a 0 ragazzi 2 a 0 Bello di nonna 2 a 0 Al 26esimo ragazzi E l'Italia c'è E l'Italia c'è Stiamo giocando con onore Con coraggio Con passione Immobile Dietro per Oh Giorginho Recupera palla Giorginho incredibile Giorginho 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 La piazza no Che schifo Giorginho Bernardeschi Alla gata dall'altro lato Oh madonna Che giocata ragazzi Che giocata incredibile Giorginho Quissigne La foggia per Bernardeschi Che protegge palla Bernardeschi fallo questo eh Ok ma fischia Non a lui fallo E li fischia Cioè Devi essere eco Quando fai le cose Arbitro Attenzione qui La Svizzera non molla Destro Sinistro 8 ore Incredibile 2 a 1 Calma ragazzi Calma 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 Sembrava finita Invece no Sembrava finita Invece no ragazzi Sembrava finita E invece non lo è Allora proviamo ragazzi A fare possesso palla Severovic Mancano 20 minuti Tutti giù ragazzi Tutti giù eh Difesa oltranza Come se non ci fossero domani Attenzione qui No 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 Madonna mia Siamo pazzi Siamo letteralmente pazzi ragazzi Siamo pazzi Ma perché Quest'Italia è pazza Non riusciamo a gestire una partita Quest'Italia è pazza signori Questa razionale è pazza È fuori di testa questa razionale Calcio d'angolo Attenzione qui Cross Oh mio Dio Sfazza Sfazza Berardeschi Madonna Giorginio Guarda loro Cross Occhio 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 Di testa Appoggi dietro Meno male che hanno sbagliato Meno male che hanno sbagliato ragazzi Mamma mia Stiamo rischiando tantissimo Stiamo rischiando Federico Chiesa Tentata la giocata Tu non sei Berardeschi Stai calmo 2 di recupero No 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 Oddio Rimpallamento Prendilo Prendilo Non ci credo Occhio No è scriptato È scriptato Script Script attivo Script attivo Cross un secondo palo Fuori 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 Siamo in finale Siamo in finale signori Siamo in finale Battiamo 2 a 1 la Svizzera Con tanti rischi ragazzi Tanti rischi nel finale Ma la decide Il nostro top player Berardeschi E più Il gol di Florenzi Che ci ha dato sicurezza Anche se nel finale Abbiamo rischiato Adesso c'è la finalissima ragazzi C'è l'ultima partita Che noi Andremo a giocare Con il cuore La Francia Ai tempi supplementari Batte la Spagna E quindi la finale Del mondiale Sarà Italia-Francia Eccolo qui Il tabellone completo Italia-Francia In finale signori Vecchi ricordi Vengono rimembrati Nel mio cervello Stavolta però Non siamo al mondiale Siamo all'europeo Italia-Francia Devo prendere una decisione Intanto guardate la Francia Ragazzi praticamente È l'arma big Che affrontiamo Perché abbiamo Stato tutte squadre scarse Martial Mbappé Grisma Pogba Sissoko Kanté È una squadra straordinaria È una squadra straordinaria Devo però scegliere una cosa Ovvero il capitano Il capitano è in signe Ma in questo europeo Ha segnato solo un gol All'ultimo secondo Praticamente Gol inutile Ma Il giocatore che Ci ha fatto arrivare qui Ha un nome e un cognome Sono Federico Bernardeschi Quindi Io La fascia di capitano La do a Bernardeschi Fascia di capitano A Bernardeschi Questa È la mia scelta Per il resto Squadra confermata Direi che questa è la squadra Che mi dà più sicurezza Ovviamente Ritorna il chiello Che prende il posto Di Acerbi Quindi Chiello torna Dopo l'espulsione Mi sta anche a piangere Ragazzi Perché temeva di aver buttato tutto E invece no È ancora qua Queste Sono le nostre scelte Non ci resta che Andare a giocare La finale Di questo europeo Ho aumentato La durata Quindi Sarà una partita Ricca di emozioni Ho aumentato anche La difficoltà Perché La finale Se vinta Va vinta Sudando Soffrendo Per sicurezza Già che ci siamo Cambiamo anche le divise Così non dovrebbero confondersi Aumentata la difficoltà Aumentata la durata Andiamo a giocare La finale dell'europeo Italia Francia Ci siamo signori Ci siamo Siamo qui Siamo qui per la finale Siamo qui a Wembley Siamo qui Siamo qui Ci siamo E' tutto pronto Eccolo qua ragazzi Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua il trofeo Eccolo qui Eccolo qui È un trofeo molto molto importante È un trofeo che Se possa essere sincero Secondo me Noi non vinceremo Ma sto bufando forse la Francia Non lo so Ma È un trofeo veramente Molto difficile Anche perché abbiamo avuto Tante difficoltà in questo europeo Ma se ci fate caso Non abbiamo mai sfidato Una squadra forte Mai Non abbiamo mai sfidato Una squadra decente Su questo gioco Quindi abbiamo sempre vinto Per un solo Boll di stacco Con squadre che Sulla carta Erano nettamente Più scarse di noi Quindi Non lo so Quello che potrebbe succedere Ma La cosa certa È che ne daremo il 100% Noi daremo il 1000 per 1000 Anzi Andiamo a giocare Ci siamo ragazzi Ci siamo Il cucciolo Cantè Inizia adesso Italia Francia Via Attenzione qua E' come la palla immobile E' dove è Benandeschi Benandeschi Sinistro di esterno Oddio che parate di mandandà E' mandandà quello Non ho visto Chiesa Cross dentro Di testa Più colpisce ancora Ancora manda incredibile 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 Mbappé Fermato in qualche modo Ragazzi da Verratti Anche da Bonuccio Da Chiellino Uno dei due Insignano anche il piede Bravissimo Benandeschi Ragioniamo ragazzi Calcio d'angolo Attenzione qua ragazzi Perché loro sono pericolosi eh Occhio Cross dentro E' uno schema tecnico Colpo di testa Ok Perché tutti scappano Dai però ragazzi Più cattiveria Oh ma che c'avete paura Se la stanno facendo sotto Sotto sti qua Digne Occhio 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 Fermatelo In mezzo a 4 Non ci credo Che fortuna Dai però ragazzi Dai Martial Che fortuna Incredibile Dai Come sono Come è passato ragazzi Come è passato In mezzo a due pischelletti Non si fermava ragazzi Guardate là In due Guardate com'è passato Anche il Berna Dai 1 a 0 Gol di Martial Porca miseria E' pure meritato Perché l'occasione L'abbiamo avuta noi Fino ad adesso Attenzione qui 1-2 Meno male che non l'ha fatto Griezmann Fuori E' tosta ragazzi E' tostissima E' tostissima questa finale Martial Bappé Martial Possesso palla Griezmann Martial Paratona di zizzo Che ci tiene in piedi ragazzi Paratona di zizzo Paratona di zizzo Insigne in mezzo alle gambe In mezzo alle gambe Scorrettezza ragazzi Scorrettezza dei francesi Insigne Se ne va Lorenzo Se ne va Attenzione se ne va Insigne se ne va Se ne va insigne Se ne va insigne Velocissimo Non si prende Lorenzino Lorenzino entra dentro Lorenzino è tua Feliponda Lorenzini Feliponda Passa dentro per Immobile Tutti a vuoto immobile Perché non hai fatto il movimento giusto Giorginio A poce per Marco Verratti Dentro bello Per Berardeschi Di prima per Immobile Che non riesce a chiudere Poi chiesa Basta da fuori Chiesa non ci arriva Nulla 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 Devo rischiare Tra un po' Attenzione e qua Attenzione a compa Non è vagante E ferma tutto Ma che culo Che c'hanno questi Ragazzi incredibile Due falla I sottolati Vole di recupero Non fischare Non fischare Non fischare Non fischare Di prima per Chiesa Di prima per Immobile Ma con le spalle Alle spalle Alle spalle Dai però Ma sono le basi Calcistiche Una alle spalle Facevo il tacco E lo mandavo in porta Porca miseria Siamo sotto Ragazzi Siamo sotto Bonucci Non dice no Con la testa Cambi signori Dentro Berardi Fuori Federico Chiesa E i tersini Spingono un po' Finazzola e Florenzi Dobbiamo rischiare Ragazzi Il tempo scorre Il tempo scorre E devo segnare Ma non solo devo segnare Devo costruire qualcosa Non la stiamo costruendo Berardi Quarantottesimo Non così Mimmo No No Il killo Fuori Fuori Se lo mani a Mbappé Qualcuno lì sopra Ci vuole bene Se lo mani a Mbappé Giorginio Come davorare Berardeschi Attenzione qua Attenzione qua Il Berna Dentro per il mobile Di esterno Sinistro Come ha girato Come ha girato Ciro Come ha girato Giorginio Appoggia per Spinazzola Siamo ancora nei vivi Dentro per Insigne Forse regolare Forse fuori gioco Insigne Appoggia per Spinazzola Cross Dentro Siamo sotto Valotto Oddio Oddio Cosa ha preso Cosa ha preso Cambi signori Cambi 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 Forze fresche Dentro Barella Fuori Verratti Un giocatore un po' più offensivo Dentro anche il grandissimo Belotti Fuori un difensore centrale Non ho più niente da perdere Punizione La batte Giorginio Cross Di testa Colpisce E Pallone Era troppo debole Era troppo debole Era troppo debole Barella Siamo sbilanciati ragazzi Ma non ho niente da perdere Non ho niente da perdere Spinazzola per Insigne Dentro subito Per Chiellini 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 Di Berna Per Berna Deschi Che croce Il Berna Deschi Sì È il Gallo È il Gallo Belotti È il Gallo Belotti Madonna mia Pallo di Berna Deschi È sulla respinta Il Gallo Belotti Ha appena entrato ragazzi Un pallone Toccato Un pallone Toccato Un gol 1 a 1 1 a 1 Mamma mia ragazzi Madonna Che finale Che finale Che finale Sto sudando ragazzi Adesso però siamo sbilanciati Quindi Vediamoci di nuovo Scegliamo questo modulo qui signori Una specie di 3 2 3 2 Un 3 Un 3 5 2 Quello che è ragazzi Con Berardi In segno un po' più bassi Giorginio Barella Belotti Immobile Florenzi Spinazzola Chiellini Barella Occhio Mettila dentro Per Immobile Ci ho provato Sai l'insegna da gol Questo Pallone fuori Berardi Accelerata là Un po' di Berardi Berardi è tua Appoggia molto No così Ma porca miseria Ma che Ma che Ha presa Tacco Per qualcosa Bravissimo Berardi Crossola Di testa Bernardeschi Di testa Bernardeschi Mamma mia Pallone fuori ragazzi Incredibile Arbolo in fuori gioco Il Berna Spirazzola Alta Per Berotti Il callo Il callo Stop Tiro No No Galletto No Galletto No Galletto Non puoi Non puoi sbagliarmi Questo Galletto Non puoi Passa Donnaroo Non puoi Galletto Berardi Fini in fondo Berardi Dentro subito Per Berotti 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 Combatti Berotti Berardi Ancora 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 Spinge l'Italia Bravissimo Berardi Veni in fondo Appoggia dentro Bassa Ok Berotti Di prima Per Berardeschi Che appoggia per Immobile Immobile Di prima Per il sinistro Niente Non ce la fa Non ce la fa Non ce la fa Che impattito Incredibile Attenzione 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 Al contropiedere Impallo Vinto Attenzione Qui Immobile Immobile 3 su 3 3 su 3 Mettila dentro Immobile Piatto Rete Ceruzzo Immobile Ceruzzo Immobile Ceruzzo Immobile Ceruzzo Immobile Ceruzzo Immobile Mamma mia Che giocatore Che giocatore Ceruzzo E questa volta Non ho tirato Con il gallo Non ho tirato C'è stato Un rimpallo Lì c'è stato Guardate lì Che rimpallo strano Madonna Poi dentro Per velotti Subito Pallone dentro Basso Per immobile Con il piattino Non può sbagliare Tutti giù Ragazzi Tutti giù Tutti giù Per gli ultimi minuti Tutti giù Per gli ultimi minuti Attenzione Qui Mamma mia Che rischio Attenzione Qui Cross di esterno Via Madonna Che rischio Contropiede Il galletto Se ne va Contro Sono tutti messi male Se ne va Il galletto Se ne va C'è esulta Il galletto C'è esulta Il galletto C'è esulta C'è esulta C'è esulta Sassato E la stella L'hai buttata Galletto E' stato ragazzi E' stremato il galletto 89 Testa 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 Bravissimo Belotti Bravissimo Era Bernardeschi Oddio Non se ne va Non l'ha rischiata 5 di recupero Incredibile No 5 no Attenzione qui Lancio lungo per Mappé Ok bravissimo Resta lì Non ci credo Resta lì Mappé Stop Sinistro Destro Appoggia dall'altro lato Occhio Dentro Basta Chiellini 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 Ragazzi 47 anni Chiellini Lorenzini Signe Lunga per Rimmobile E che protegge palla Tocco per Bernardeschi Che allagata l'altro lato Provaci Provaci per Belotti Sali 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 Berardi Ok Andata Di prima dentro per Belotti Il galletto Il galletto Il galletto Il galletto Destro Pallone sul palo Ragazzi Non riesce a fare il secondo Il gallo incredibile Oddio che tuono Incredibile Non c'è più tempo Non c'è più tempo Non c'è più tempo Non c'è più tempo Ragazzi E' tutto vero E' tutto vero Giordino ragazzi E' europeo E' tutto vero Signore E' tutto vero Battiamo La Francia In finale Il cameraman In mezzo Poverì Bullizzato Il cameraman Finisce ragazzi Finisce Non può più uscire il cameraman Non ho mai visto una cosa del genere Finisce qui Finisce qui Finisce qui Battiamo La Francia 2 a 1 E Bernardeschi L'eroe Di questo europeo Perché lui Signori E' lui L'eroe di questo europeo E non sto scherzando Ti ho visto tutto il video Lo sa Se noi siamo arrivati qui E' grazie a Bernardeschi Se siamo arrivati qui E' grazie A questo giocatore Che a Torino Nella Juventus L'ha giocata Non la può rischiare Però in Italia La può rischiare In nazionale La può rischiare L'ha rischiata E gli è venuta E gli è venuta C'era ragione lui C'era ragione lui Foto di gruppo ragazzi Foto di gruppo Saluta Florenzi la nonna E Vinciamo L'europeo Signori belli Abbiamo festeggiato Abbiamo bevuto Questa qui ragazzi Non è acqua Lascio immaginare a voi Che cosa sia qui dentro Ho bevuto tutta quanta la bottiglia Abbiamo festeggiato Abbiamo gioito Perché siamo Campioni De Europa Abbiamo vinto Signori L'europeo Con un cammino Straordinario Io vi invito a vedere Il cammino totale Eccolo qui Siamo stati abbastanza fortunati Nei gironi Anzi Nei gironi Ok vabbè Ci potrebbe stare Ma siamo stati molto molto fortunati Nel tabellone Perché abbiamo beccato L'Austria E abbiamo vinto Abbiamo beccato la Darimarca E abbiamo vinto Con una partita incredibile Ragazzi Andatela a vedere Se non l'avete vista Abbiamo battuto poi La Svizzera In semifinale Rischiando qualcosina E poi abbiamo battuto La Francia In finale Con una partita Straordinaria Giocata di difficoltà aumentata Quindi ancora più difficile Quando la squadra Sulla carta più forte Di tutta Europa Detto questo signori Il primo episodio Della serie Finisce qui Io spero che vi sia piaciuto Fatemi sapere Questi nei commenti Che cosa ne pensate E' durato tantissimo E' durato veramente tantissimo Però spero Che vi siate divertiti Io vi saluto E vi ringrazio Ovviamente Non tutti gli episodi Termineranno in finale Perché faremo anche L'europeo Con la Macedonia E dubito che con la Macedonia Arriva in finale Molto probabilmente Tre partite E video felice Perché siamo terminati Però Noi proveremo comunque A giocare con la Macedonia Con il San Marino E tante squadre Anche particolari Quindi atteneremo Quadri forti A squadre un po' Cos'è così Per vivere felice Detto questo Io vi saluto E vi ringrazio Io finisco di bere Questa cosa qua Che non vi dico cos'è E ci vediamo Al prossimo episodio Un saluto Bella Ciao Grazie.